Ciao amici, allora come vi ho promesso ogni tanto ci si incontra ed è sempre una cosa molto bella. Sono qui per dirvi che il mio progetto sta andando avanti, sono veramente molto 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 felice anche se è parecchio impegnativo per me e per Danilo portare avanti questo progetto. E pensate che questo progetto è nato un anno fa con Valerio che volevamo insieme fare questa questa cosa e ci siamo messi a lavorare con veramente tanta passione e con la voglia di fare qualcosa di di particolare e di diverso. Il mio secondo album che si intitolava Fai col cuore è per me, per Valerio sicuramente è stato un album importantissimo. E su questo lavoro ti sto mettendo tutta la passione, la volontà di fare qualcosa di veramente speciale perché Valerio era molto esigente e sono convinto che lui si aspetta da questo mio progetto qualcosa di straordinario e io ci sto mettendo tutta la mia anima, tutta la mia sensibilità perché possa diventare qualcosa di speciale e straordinario. Ciao amici, a presto!